Profumo di derby domenica in Serie B. A Chieti alla Palatricalle di fronte l'Europovini e Teramo per un match sulla carta dal pronostico chiuso. Impressionante serie di vittorie consecutive per gli uomini di Piero Cohen e secondo posto blindato dietro Sansevero. All'andata finì con il successo all'overtime di Chieti e con tante polemiche. È passato un girone intero ed oggi, oggettivamente, lo spessore delle due squadre è differente. Ma Teramo ha dimostrato di essere in salute nonostante l'assenza di La Gioia, superando 71-63 Civitanova nell'ultimo turno. Più equilibrato l'altro derby, Raiola dovrà rinunciare a Potì per la ferita rimediata a Senigallia e probabilmente anche a Pedrazzani. Giulianova ha lottato nel match contro Chieti e arriverà al pala Elettra in buona salute. Pronostico per Leonzi e compagni, ma sarà un bel derby equilibrato.